Sì, io sto benissimo a Pescara, quindi per me comunque non ci sono problemi a rimanere a Pescara. Poi stiamo facendo tutti un grandissimo campionato e è ancora più piacevole rimanere qui a giocare e cercare di lottare per qualcosa di importante. Io spero che riprendiamo da come abbiamo finito, a parte la sconfitta di Empoli, perché nelle ultime dieci partite la squadra ha dimostrato di essere forte, compatta e unita. Ora abbiamo 20 giorni di lavoro che ci aiuteranno a capire ancora di più tutti quegli errori fatti in precedenza e non ripeterli più. Sì, ci ho messo del mio, però è normale che senza di loro io non avrei fatto questo girone d'andata e non saremo nelle zone alte della classifica. Abbiamo fatto una grande rimonta e adesso dobbiamo rimborcarci le maniche perché non dobbiamo pensare a quanto ho fatto, ma dobbiamo migliorarci per fare meglio ancora il ritorno. Il modulo conta e non conta perché, ripeto, come avete visto in campo è cambiata la mentalità, la squadra non molla mai, i primi a difendere sono gli attaccanti e per noi difensori è un grosso aiuto. Fino ad allora io credo che le prestazioni non erano mai mancate, non arrivavano solo i risultati, che è comunque la cosa più importante. però ecco, eravamo un po', non dico demoralizzati, però capivamo che giocavamo bene, però senza fare tanti gol, senza portare a casa i tre punti e non è stato un bel periodo. Poi dalla vittoria di Reggio comunque è stata un po' la scossa e questo ci ha aiutato per fare la rimonta. Abbiamo ottimi centrocampisti che la palla la fanno sempre girare bene, è normale che andando sempre in vantaggio la squadra tende ad abbassarsi, io spero che la squadra migliori soprattutto a chiudere le partite perché questa cosa nell'ultima partita ci è mancata tanto. Quello col Brescia sì è uno dei più belli, però a me piacciono anche quello di Trapani e quello di Modena perché sono dei bei gol, io poi li riguardo spesso e a me sinceramente piacciono tutti perché oltre a guardare la parte finale guardo sia il movimento, guardo un po' tutto dell'azione, quindi per me sono belli tutti. Sono contento però credo che posso dare ancora tanto, con l'Empoli è capitata perché comunque che è andato in campo ha dimostrato di poter far parte di questa squadra. Spero di continuare così e di migliorare ancora tanto e di dare tanto per questa maglia. È vero, però l'importante è fare dei gol e far arrivare i tre punti alla squadra, poi è normale, qualsiasi giocatore segna va bene perché l'importante per ora è vincere. Dispiace solo che il Parma non mi ha dato mai l'opportunità di dimostrare mandandomi comunque in prestito a squadre costruite per vincere. Speriamo che quest'anno vada bene. Ci sono giocatori che ne possono trarre dei benefici nel mercato di gennaio e altri che magari fanno la scelta sbagliata andandone via gennaio. Questa è una cosa che si può vedere purtroppo solo dopo. Uno deve essere bravo a capire magari il momento, a scegliere la squadra giusta, con l'allenatore giusto, quindi è un po' una cosa a scatola chiusa. Il Palermo e l'Empoli credo che hanno dimostrato di essere attualmente le più forti, anche perché noi all'inizio delle prime dieci giornate abbiamo avuto molti problemi, sia di infortunati che di altre cose. Credo che il Pescara meritava qualche punticino in più, però spero di riprenderci al giro di ritorno. È andato bene, non bisogna rivoluzionare la squadra, cercare di mantenere quell'assetto tattico sia di giocatori e di gruppo soprattutto, perché abbiamo visto e dimostrato che siamo un grande gruppo e grazie a questo sono arrivati dei grandi risultati. Io vengo da una città col mare, quindi arrivare qui a vedere il mare mi sento come se fossi a casa. è tutto bello, sia dal centro, dal lungomare, dalle persone, dal mangiare, quindi si sta benissimo.